ciao ranetti di youtube eccoci alla seconda parte e ultima del progetto che abbiamo iniziato il mio primo progetto su il lan real engine sull'unreal engine oggi andiamo a completarlo i passi da fare sono pochi ma sono importanti o la situazione attuale di gioco e questa c'è questo piccolo gioco che a quanto pare ha soltanto 5 secondi possiamo sparare ai target ecco come vedete c'è un piccolo problema dove si vince e si perde contemporaneamente ma questo andiamo a fixare proprio adesso fabiola grazie per i 15 mesi baby ho perso pollo scusate comunque ci sono un po di baghettini che dobbiamo andare a risolvere ma appunto li risolviamo tutti in un istante in un istante tarta grazie mille per i due e poi e poi niente poi andiamo a creare un andiamo in un nuovo environment andiamo a mettere i nostri target perché questo qua fa schifo successivamente sia nelle mie live classic che probabilmente in una settimana della prossima settimana ma non sono sicuro andremo invece a vedere come creare un landscape ho finito di vedere il tutorial dei landscape è una cosa molto complicata però ci sono un sacco di cose interessanti quindi nice e poi dopo di questo inizieremo a fare dei giochi un po non so adesso ci penso però uno o due diversi che non esistono facciamo il landscape le meccaniche di gioco insomma una volta che abbiamo acquisito tutte le nozioni che ci servono ce la ce la cilliamo voglio fare un piccolo recap di quello che è successo l'altro giorno cioè ieri ma per chi ha visto su youtube potrebbe essere un momento qualunque o sostanzialmente siamo andati a creare i nostri bei target che sono questi abbiamo associato nella blueprint dei target una logica per capire se sono colpiti a e se non lo erano già stati prima quindi questo è un branch questo è un set di is it abbiamo preso la nostra bella game mode e poi per riuscire a raccattare il la game mode appunto che ci serve e poi dalla game mode abbiamo chiamato la nostra funzione increment score all'interno di questa blueprint le blueprint sono questi questi luoghi dove si mettono la logica dei giochi la nostra blueprint ha due eventi fondamentali che sono le parti rosse ok e ho già iniziato sto vedendo l'intervista di omi a gali se che mi ha talento nelle interviste cuore a cuore tu che ne pensi sì penso di sì real fruttezza penso sia bravo a fare le interviste e ne abbiamo anche fatte tante insieme comunque le funzioni che vengono chiamate qua sono gli eventi che vengono chiamati qua sono due increment score che è giusto appunto quella che viene chiamata dal colpire un target increment score incrementa il valore dello score e poi se lo score è il massimo score che sarebbe il numero di target viene inizializzato qua allora prendiamo il nostro widget finale lo aggiungiamo al viewport e blocchiamo l'input invece se cioè non se ma quando inizia la partita facciamo una serie di operazioni prima andiamo a riattivare la modalità di gioco per l'input game only perché se se l'abbiamo finito da qua e poi premiamo il puzzante restart va riattivata manuale di fare delle cose strane e aumenta all'improvviso i cabbytes a 18k indagherò indagherò non sono riuscito a risolvere però quindi appunto prendiamo il nostro widget la UI widget che è questa qua dove c'è score e time e la aggiungiamo al viewport inizializziamo gli score e il timer text e poi il timer text qua c'è la parte un po' più merdosa che ho fatto alla fine e che mi sono inventato io e non ho copiato dal tutorial dove parte questo tempo questa temporizzazione che ogni secondo fa partire il time decrement event ma quanto è fin sostanzialmente abbiamo di di che gestire qua perché controlliamo se il timer è zero se non lo è lo mandiamo avanti e aggiorniamo il timer altrimenti se lo è significa che siamo alla fine ma se non ci eravamo mai passati prima tramite questa variabile time over creiamo il widget finale lo aggiungiamo alla viewport e settiamo come testo hai perso ok ci sono due elementi grafici questo che è la UI classica che parte subito e poi la game over UI ecco qua ora sostanzialmente ci sono un pochettino di cose un pochettino di cose che dobbiamo fare per sistemare i bug che abbiamo al momento che sono un po' infami ok perché hanno a che fare con la doppia hanno a che fare con la doppia la doppia layerazione diciamo del del fatto che ci sono le due UI puoi vincere puoi perdere questa meccanica e da gestire bene e la andiamo a gestire fra un istante prima però un piccolo una piccola cosa una piccola cosa volevo si potrà copiare oh si che si può copiare si può copiare questo poi vengo di qua e faccio paste non funziona ma era un bel tentativo scusami eh se vengo di qua copio tutto il font l'ho copiato tint strike ah perché ok ok non era font era shadow offset e strike brush mi sa che devo copiare quite interesting paste oh shit funziona veramente vabbè è incredibile sta cosa no merda ho sbagliato sono indietro piccolo copio di qua incollo di qua ecco ok adesso il nostro c'è ancora qualcosa di diverso ma se copio tutto l'appearance no questo non me lo fa copiare sarebbe stato bello ma non ha funzionato shadow offset e shadow color devo copiare questi tre credo che sia l'offset che manchi shadow offset paste eccoci qua oh così sono uguali perfetto 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 controlliamo di averlo fatto bene grazie taco matto perfetto ora il tempo è uguale ed è giusto ora andiamo nella parte di fixare i vari bug qual è il problema fondamentale che la logica la logica di fine partita è spatasciata in due parti diverse ok è spatasciata qua fatemi allargare un pochettino è spatasciata qua quindi in particolare da questa condizione vera in poi e sei invitato all'hotel acquammarino di civita nova marche che ci lavora la mia fidanzata il danio va bene ci penso è rage here grazie per il prime potete scattare prime per supportare queste stream instra settimanali e anche spatasciato mezzo qua grazie mille gara per il prime grazie mille sostanzialmente sostanzialmente è necessario creare una funzione che raggruppi un po' di cose ok perché a fine game che sia per questo motivo qua cioè che il max score ha raggiunto il current score or sia vero che il tempo è arrivato a zero quindi questa questa o meglio che sia falso che il tempo non è arrivato a zero quindi andiamo qua e quindi che sia vero che il tempo sia arrivato a zero dobbiamo fare la stessa cosa dobbiamo creare lui widget settare il testo a qualcosa e poi bloccare l'input mod bla 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 e far vedere il cursor ok entrambi cioè bisogna fare sempre la stessa cosa e allora noi creiamo una funzione vera e propria per chi programma questo non sarà un elemento di ansia ma per chi invece non ha mai programmato potrebbe esserlo non vi preoccupate allora facciamo un function qui esattamente come creiamo delle variabili creiamo una funzione la chiamiamo endgame ok o anche game over mi piace più game over rename allora qui siamo dentro la funzione game over ok cioè abbiamo aperto questo non so cosa sia abbiamo aperto la funzione game over separatamente e poi ce l'abbiamo qua e possiamo easily easily trascinarla qua dentro ok giusto per farvi vedere come funziona noi possiamo appiccicarla da qualche parte ok appiccichiamola qua ok la mettiamo qua in mezzo al momento la nostra funzione game over non fa nulla di niente ok però però adesso gli facciamo fare qualcosa game over facciamo una cosa molto semplice diciamo banalmente che stampi una stringa print string siamo nella funzione game over ok quindi compiliamo la funzione questo è già compilato quindi quando praticamente andiamo a quando finisce la partita quando il max scorre uguale al carne scorre si vabbè qua non si vedrà però perché c'è il coso bluroso quindi guardate scorre salto ve lo faccio rivedere per star tranquilli bing bong bing bong siamo nella funzione game over ok quindi sta funzionando lo so ci sono delle piccole f non scrivetelo in chat purtroppo non sono risolvibile al momento e bene quindi la funzione game over come vedete può contenere un pezzo di codice separato che ci teniamo per gli affari nostri e c'è di più la funzione game over è in grado se lo vogliamo di avere un di avere delle variabili separate ok quindi semplicemente a noi servirà una variabile che qua è time over ne creiamo un'altra per non fare confusione ok che diciamo essere lost game ok questa lost game la cacchiamo semplicemente qua dentro oh oh no non dovrebbe far così dovrebbe add parameter come si fa forse devo esporla se no non posso no in teoria dovrebbe bastare semplicemente dragandoli sopra ma non è vero a destra in che senso add input a destra qua vedete questa è una parte tecnica del programma che non conosco ah forse devo prima compilare no non capisco dove dove intendi forse è qua ah certo certo ok chiaro perfetto perfetto però io voglio che ah ah no allora sei una merda scusami qua non posso dirgli un parametro che cosa vuol dire che quando adesso la chiamiamo di qua possiamo o forse dobbiamo volendo ecco qua possiamo dargli anche un inputtino a nostro piacere benissimo allora adesso il tema è che dobbiamo prendere tutta questa roba qua che è il finale e anche un po' di più in realtà è un misto fra questo e quell'altro e quell'altro e dobbiamo impostare e dobbiamo buttarlo di là quindi iniziamo a togliere questo e schiaffarlo qua dentro e ci prendiamo anche questo e lo schiaffiamo qua dentro adesso lì mettiamo vicini e insieme ok e in questo modo saremo in grado di creare la nostra funzione di endgame allora game over è l'inizio di tutto ok grazie a lava sempre per l'assistenza allora ci serve sicuramente questa parte ci serve perché questa è quella che crea il la roba finale e oltre che creare la roba finale create bp bla 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 ok add to viewport qua settiamo una variabile che poi usiamo qua sotto non credo di usarla da altre parti quindi in realtà non credo che serva neanche la ref game over ui potremmo direttamente prenderla da qua e usarla dappertutto ma ci sta averla separata secondo me per evitare di far schifo e avere il grafico un pochettino più pulito e poi prendiamo questa parte e questa parte deve finire qua allora il player controller la mettiamo qua sotto qua c'è un po' di di graficheria da fare perché questo deve collegarsi qua e non più qua il player controller è già lui e questo qua sarebbe il ref game over ui giusto perché era il return value di questo quindi perché qua lo usiamo per settare e quindi sicuramente è il ref game over ui quindi facciamo un'altra get giusto per averlo più pulito e lo mettiamo qui ok quindi questa è un po' l'idea di base ora li mettiamo un po' in ordine chat non vi preoccupate ok ok oh tutto bello ordinato bello mi piace come questo è proprio messo in un posto straordinario allora questo qua va lassù ma va anche lì ma va anche lì qua c'è un po' di questa graficheria che non è che mi faccia impazzire a me però tocca tocca fare tocca fare le blueprint sono fatte così solo da questo computer ma che cazzo cioè l'altro computer sembra essere a posto vabbè io comunque me ne accorgo se succede quindi sto zitto non so bene come risulti la live ma scusatemi è così in ogni caso ci può pure stare perché è tanto una roba di pensare qui quindi non è che bisogna vederla tutta di seguito allora voglio un pochettino più di spazio qua e adesso capirete perché però fondamentalmente la funzione di game over è questa ok la funzione di game over è questa questo non ci serve più e lo possiamo fortunatamente cancellare questo va bene così oh vediamolo qua sotto ora il testo ok final message set text oh questa in realtà era la parte che mi interessava perché a seconda che la partita sia persa o non sia persa ok noi dobbiamo dare un valore diverso al messaggio finale ok credo che sia il programma che ti fa laggare ma no è un problema di internet non è un problema di è un problema di quello e poi ieri me lo faceva senza neanche averlo mai aperto non real quindi ora il tema è che questo final message su questo final message dobbiamo chiamare la set text ok ma il testo dipende quinto mese di fila che rimuovo il rinnovo automatico ma anche grazie ai suoi studi lo riattiva è così obbligato grazie per i 5 prova a fare risoluzione problema facendo tasto testa sulla connessione sì ma oggi va così non vi preoccupate non mettiamoci a risolvere i miei problemi di rete ora l'idea è che a questo qua facciamo un branch ok perché se abbiamo chiamato game over la partita è finita di sicuro ok quindi se è lost game ciò implica grazie mille kiwi se se l'abbiamo chiamato con lost game vera allora significa che dobbiamo scrivere che hai perso altrimenti significa che hai vinto è una delle due per forza non c'è alternativa no perciò perciò noi dobbiamo inserire nel testo a seconda di quello che è un valore questo come si potrebbe fare questa la tiriamo un pochettino più su se true si può fare una variabile si può fare una variabile volante così al volo tipo anonima non voglio crearne una qua si si può ok come si fa mi serve una stringhettina al volo ah forse un vettore fai una local vabbè ok lo chiamiamo lo chiamiamo final message final message local oh si vabbè è un questo qui tra l'altro dovendo dare un text secondo me possiamo direttamente fare così qua facciamo una set quindi se è true ah merda mi sono sbagliato però perché no ok questo deve star qua sopra se no non ha il juice non ha oh fuck ho bisogno ho bisogno che prosegua indipendentemente forse non è un branch eh qua qua c'è un po' una problema che lo saprei programmare ma non so farlo qua ehm la goduria come fa come faccio ad avere del juice del juice indipendentemente che sia true o false ah si si ce l'ho ce l'ho così ce l'ho dovrebbe essere credo dovrebbe essere se è true settiamo questo se è false settiamo questo un'altra set e poi entrambi si collegano qua direi che dite così dovrebbe funzionare no si credo di si via questo nodo grazie grazie mille marco piccolo ok ok quite interesting quite interesting perché poi a questo punto basta mettere qua una get della variabile locale e cacarcela qua dentro ah piuttosto clean piuttosto clean boys che ne dite piuttosto clean ora il questo pezzo è completamente diverso da come lo faccio dal tutorial ma mi sembra molto più pulito quindi se è vero che è lost game qua dobbiamo scrivere hai perso pollo se è falso dobbiamo dirgli hai vinto king ok perché se è falso che ha perso significa che ha vinto a questo punto abbiamo il juice per andare a creare oh merda di lunghezze diverse vabbè andiamo il juice per andare a creare la il widget qui gli settiamo il text ha suddetto widget ma vi dirò una grande verità voglio invertire questo perché così se no il testo poi si vede si vede che compare dopo secondo me anche ever so slightly però si vede che compare dopo quindi facciamo prima così allora tranciamo questi due grazie così oh e metti a dritto così così e poi ci serve però che questo signore qua sia un po' più indietro e da qua va da anche qua ah beh beh che dite non è un falso if cos'è un falso if mi sembra mi sembra ragionevole questo qua non usiamo più il coso perché ci serve il final message potremmo fare così anche ma non cambia granché diciamo chi è così mamma che schifo ma poi io sono un pazzo squilibrato quindi voglio mettere tutto in ordine ok mi sembra ragionevole mi sembra molto ragionevole ora con questa modalità dovremmo avere i messaggi diversi sincronizzarsi tutto mi sembra molto bello compiliamo non resta che naturalmente chiamare e poi dobbiamo ancora fare una cosa però vediamo intanto come funziona e se funziona allora questa la andiamo a commentare e la chiamiamo game over function setta il messaggio per il widget finale e lo evoca basta non fa nient'altro mi sembra molto bello e però il dottor dove sta? ah qua nell'event graph dobbiamo chiamarla ok game over da qui ok lost game è falso quindi lo dobbiamo chiamare così perché da qua siamo in vittoria ok tra l'altro questo qua così può diventare molto più piccolo eh facciamo così incremental score e lancia incrementa lo score e lancia la funzione di terminazione gioco se è raggiunto il punteggio massimo giusto non abbiamo detto nella funzione game over e lo evoca blocca gli input e blocca gli input ok quindi questa è la prima parte e come vedete è molto più pulito e anche qua rimane più o meno pulito considerate che questa qua è comunque la funzione di begin play quindi bisogna settarsi cose salvarsene qua c'è ancora una porcata di questo di questo schifo qui però adesso andiamo a cercare di sistemare sicuramente così dovrebbe funzionare dicendogli senti bomber qua devi farmi la game over e gli diciamo che è lost game ok in teoria dovrebbe funzionare ripeto questo entanglement quantistico adesso cerchiamo di fixarlo però compiliamo e andiamo a vedere se abbiamo risolto gran parte dei bug in realtà non ci sono bug visibili ma non mi piace come implementato credo quindi allora iniziamo a vedere se scade il tempo hai perso pollo e il mouse è attivo se vinciamo hai vinto king perfetto però il tempo continua a scorrere e arriva il perso pollo ok giusto quindi abbiamo ancora quel problema lì che deriva da questa merda che adesso andiamo a risolvere e abbiamo anche visto che la scritta finale is not centrata ma questo è perché se c'entra il testo non sia lineato al centro come si linea al centro outline settings center align shit in alto alignment no voglio dire tipo sai sempre centrato no come su tutti i programmi di testo come image justification justification perfetto align text center bene compiliamo vediamo se abbiamo aggiustato questo grande piccolo bug no devo perdere se no salta fu oh no hai vinto hai vinto ok perfetto è centrato ora per la questione dell'hai vinto hai perso qual è il problema subsidiario qual è il problema subsidiario che quando noi vinciamo il tempo continua a scorre lo vedete è un problema che avevamo già ieri che ho risolto di merda zen papery grazie per i 14 mimas grazie per la sub pagata lui qui non è che però fa partire la funzione game over due volte ok fa partire la funzione game over due volte questo è il problema fondamentale perché la prima volta la fa partire qui poi scade il tempo la fa partire qui quindi semplicemente dovremmo dire che laddove questo branch ok cioè diventi vero scusate falso quindi siamo arrivati a fine game qua quando siamo qui siamo già a fine game sicura dobbiamo anche dirgli di non far più andare avanti il timer ok allora un'idea potrebbe essere quella di dire guarda disattiva il looping quindi se è falso dobbiamo dire che il looping deve disattivarsi nasri grazie per gli 11 mesi mi sono impegnato come fare a fare questa cosa perché appunto c'è questa opzione che è quella di disattivare il looping un'altra opzione è quella di usare questa variabile in teoria però già dovrebbe funzionare perché gli abbiamo detto guarda che il time over time over non capisco perché lo esegua perché l'abbiamo sentato tu ah no no giusto perché ah giusto giusto perché ok ok quindi in realtà non funzionerebbe neanche non è quel problema il problema è che dobbiamo segnarci in game over ok in game over dobbiamo dire che la partita è finita definitivamente ok perché altrimenti è in ubrudiello è in ubrudiello quindi facciamo una semplicissima cosa ipotizzo che si possa ad esempio andare a vedere delle altre robe ma al di là di questo noi qua settiamo una variabile di tutto che chiamiamo direttamente time over la rinominiamo che è game over ok però è anche facciamo così dato che è un booleano la chiamiamo rename is game over questa game over è falsa di default qua la settiamo a true ok quindi tac tac e diciamo che game over è ora true ok in questo modo sappiamo che game over è stata chiamata praticamente ok l'idea è che game over è stata chiamata quindi non può più essere chiamata per garantirci che non possa più essere chiamata non deve più essere chiamata da nessuna delle due parti naturalmente che la può chiamare che sono rispettivamente qui ma non può succedere perché l'input è bloccato quindi non possiamo più sparare a un target quindi qua siamo già a posto mentre di qua bisogna ancora verificarlo e già che ci siamo avremo l'opportunità di rimuovere direttamente questa set e dire che andiamo ad eseguire la schermata se e solo se ok di game over se e solo se game over game over è falso allora possiamo andare avanti direi che così dovrebbe funzionare perché lui continuerà a finire qua dentro tutto il tempo perché il loop continua ad andare avanti ma ma dirà ah ma game over il gioco è già finito cioè game over sarebbe un po' come dire ho già lanciato la funzione game over se no la lancio se si niente non fare niente so that makes sense credo di aver definitivamente fixato tutti i bug allora iniziamo a fare la win vedete che il te fuck ok funziona ma il tempo continua a scorrere e questa cosa mi da fastidio quindi in realtà noi dobbiamo fare allora vaffanculo se io metto game over qua funziona sai sai quale è il problema che la 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 over ok vediamo così se funziona oh ma ma perché perché lupa non so è l'ultimo proprio secondo che lo fa no mi sembra che funzioni lo stesso forse bisogna aggiornarlo bisogna dargli un impulso non so non so bene come funziona questo looping funziona l'inizio funziona l'inizio cioè il valore iniziale è corretto ma quando viene aggiornato is game over non non cambia perché secondo me fa la get quando viene istanziato il nodo e poi se ne sbatte i coglioni invece deve essere impulsorio quindi sostanzialmente secondo me andrebbe detto che eh questo è bastardo però perché per far smettere il timer per far smettere il timer dovremmo dirgli da qua dato che qui la stiamo lanciando che qui deve smettere il timer quindi un'alternativa ok quindi questa qua non funziona lasciamolo lupare però possiamo dire che anche se io vorrei farlo smettere di lupare però possiamo fare così possiamo dire che il timer deve essere decrementato se e solo se non è così or giusto quindi deve essere che non questo oppure via la puttana stai zitto or is game over dall'alto delle mie conoscenze direi che manca è solo della redstone più o meno più o meno che lo decremento allora fatemi un attimo ragionare no 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 ok se perché o viene triggerato questo lato o viene triggerato il game over make sense però il game over deve essere vero quindi è finito il game over quindi game over è true se è true non decrementarlo perché queste qua sono le condizioni per andare avanti quindi ok quindi deve essere al contrario deve essere un not che schifo mamma mia ma poi fa schifo che i nodi booleani sono così grossi cioè le condizioni viene una merda tremendo però a questo punto dato che gli ho messo anche questo qua poi come si comporta di qua usa il C++ criceto grazie gocciolo al sugo come si comporta questo nodo qua perché noi gli diciamo guarda potrebbe entrare qua dentro se nel falso se uno dei due è se entrambi sono falsi quindi se entrambi sono falsi no perché esiste il caso in cui questo qua è attivato mamma mia che scrittura di merda un po' troppo complicato per i miei modesti gusti e comunque non funziona figlio di puttana allora 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 noi vogliamo che il timer venga decrementato ok solo se non è zero quindi questo non è zero ma no è un end c'ho ragione non è zero e non è game over ok or il cazzo questo è un end ok ok vedete che il dubbio che ci avevo avuto era giusto non deve essere e non deve essere game over make sense vai alleluia cazzo ok questo funziona adesso perdiamo e non e funziona anche questo non ne mette più di uno perché il tempo non va più avanti però sapete qual è la questione che secondo me questo non serve più credo perché se è vero che è game over no questo va già nel ramo falso eh no devo controllare perché potrebbe essere andato nel ramo falso perché questo non è vero quindi siamo arrivati a zero quindi deve lanciarlo lui che schifo che implementazione veramente strabiliantemente stupida o comunque non lo so non lo so si sapete qual è il problema è che sto cercando di bloccare questo looping del cazzo no se io avessi un modo di dire guarda ma io ce l'ho allora questa è una soluzione e funziona e vabbè però la soluzione secondo me più pulita era quella di dire guarda se però comunque se è falso questo più o meno più o meno dovrei mettere tipo un listener di game over e poi schiaccagarlo dentro il looping non è una soluzione che mi piace tantissimo però siamo d'altronde anche dei neofiti non di programmazione se avessi davanti il codice lo vedrai meglio è difficile è un altro linguaggio visivo cioè con l'altro linguaggio visivo devi pensarci però funziona funziona ma non lo so amante di mia mamma non lo so proprio ci sono le funzioni per mettere in pausa il timer usa la struttura che ti restituisce set timer by event è questo e ho capito ma non so bene come si fa probabilmente dal return posso fare delle robe vabbè non ho abbastanza competenza qua nella gestione dei timer per capire come farlo e in ogni caso questa parte qua rimane sempre vera probabilmente la cosa più intelligente è quella di fargli scalare ancora un secondo prima così è un po' più pulita almeno la vista e poi se è diventato zero non ho mai le cose sul serio non ho mai aperto visual studio e mai lo aprirò e ne sono fiero grazie però per la dono e quindi rimane così rimane così questa è la logica di oggi comunque certo il vero programmatore utilizza solo vim sto facendo un gioco sarum niente quindi qua la logica è che facciamo un bel po' di cose inizializziamo il begin play è la cosa fondamentale inizializziamo inizializziamo il max score che è questa parte qua questo si può init max score poi creiamo il widget creiamo il widget generico e e gestisco il timer e la sua logica quindi in sostanza qua potete fare dei sub commentini se prendete tutto questo con shift posso selezionare così si se voi prendete tutto questo e lo mettete un po' a parte è già un po' meglio no perché dite questo qua è il timer è un po' così è un po' così direi che questo commento esterno è completamente inutile init max score ci sta a fare un po' di commenti separati così questo qua è reistanzia i comandi uso sempre uso sempre intellij create ok questo qua è in realtà tutto insieme quindi togliamo questo commento e widget principale oh dai 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 così ci sta oh abbiamo abbiamo fatto la logica non era facilissimo ci abbiamo messo più del previsto un'ora ci ho messo minchia è passato però devo dire che con questo cazzo di coso il tempo vola proprio e mi diverto un mondo ma che eclips ma che eclips intelligente poi è gratis per gli studenti e i ricercatori bene la mappa sempre oggi la facciamo papà paolo ci siamo ci siamo il nostro gioco ha ora una logica imperscrutabile perfetta il tempo si ferma possiamo restartare possiamo vincere ancora il tempo si ferma possiamo perdere hai perso e funziona mi fa sempre ridere che c'è questo questo signore qua che atterra ogni volta che ogni volta che ah giusto fatemi provare una cosa con function and oh si appiccica il terreno questo l'ho visto nel tutorial del landscape ci servirà per fare una casa poi faremo una casa vabbè bene ora non resta che implementare la fisica dei target perché i target quando adesso li spariamo non sono particolarmente gradevoli ok vedete astardo non è non è soddisfacente ok quindi andiamo a fare la fisica dei target per fare la fisica dei target ah già non vi ho fatto vedere una cosa importantissima allora non vi ho fatto vedere una cosa molto utile molto importante quando si programma programma insomma qualunque cosa sia questa roba in pratica fatemi aumentare soltanto un attimo il tempo perché è troppo è troppo basso troppo basso mettiamo mille secondi così siamo tranquilli vi faccio vedere se faccio da qua play una cosa piccola f piccola f lo so lo so dicevo se faccio da qua play piccola f grazie mille abstract per i 17 mesi se faccio da qua play è possibile è possibile qua devo fare tipo shift f 1 per uscire per avere il mouse è possibile guardare il triggering il triggering degli eventi ok in teoria ah perché qua non ho selezionato questo target sarà il primo no sarà il secondo ah il quarto me lo ricordo perché il quarto è commesso ok guardate qua vedete quando parte un evento fa vedere il juice che passa e che va avanti lo possiamo vedere tutto il che è piuttosto comodo guardate il juice il juice e adesso che l'ho settato vedete che non parte più arriva al branch e poi si stoppa eh il juice va bene è molto molto bello un real 5 molto molto bello mi sto trovando super bene ok allora andiamo però a mettere sta fisica dei target che fa un cagare fisica dei target allora qui dobbiamo nel bp del target siamo qua aggiungere il target itself e poi nodo set simulate physics qua c'è la mia add score che lui la chiama increment score che fa schifo aggiungiamo il target itself che è questo ok al target che sarà uguale indipendentemente da quale di questi ok viene istanziata la stessa cosa così come funzionava l'it ok il target al target diamo un set simulate physics gli diamo il juice naturalmente mi fa troppo vedere che lo chiamo juice e poi gli diamo simulate ok a questo punto andiamo a vedere abbiamo messo la fisica fatto super facile super facile è un po' cringe è un po' però c'è oh ah certo perché se lo colpisco più volte mentre lui sta cadendo gli succedono delle cose se no non sono uno solo è cringe as fuck quindi andiamo a migliorarla un pochettino la fisica ok come facciamo a migliorarla aggiungiamo un impulso un impulso quindi add impulse ma che cazzo vuoi scusa eh ma io volevo questo gentilissimo però è una fisica un po' bolsa un po' bolsa gli aggiungiamo degli impulsi ora ma che palle 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 non so non so poi non mi triggera per parlarne quindi evitiamo d'altro canto io non ci posso fare niente quindi credo poi dovrò fare dei test ok adesso sostanzialmente abbiamo aggiunto un impulso ora vediamo diamogli un impulso sulle x di 100 vediamo cosa succede bene mi sembra ragionevole non succede niente come mai non succede niente chat perché questo impulso non vale una sega di niente ok non vale una sega di niente è troppo piccolo ok e in ogni caso non è che possiamo scrivergli noi il valore perché l'impulso quindi se io qua ci metto tanto ok a parte che sulle x non so benissimo che cosa intenda però facciamo così vediamo cosa succede così e attiviamo anche velocity change come se non avesse massa ok neuralizzato 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 ok forse esagerato i valori forse esagerato chat forse esagerato allora aspettate però mettergli non so c'è 10.000 100.000 ho esagerato chat ho esagerato l'ho neuralizzato neuralizzato il proietto il target eh vabbè ancora troppo ma che palle allora scusami ci metto c'è 10.000 allora forse era perché verso la x la x potrebbe essere quella verso il se vabbè vediamo così oh ma che oh è lassù l'avete visto l'avete visto l'avete visto dove è andato aspetta vediamo se se riesco a prendere anche questo eccoli ok quite fun devo dire mi diverte e allora ok credo che sia un problema di metto 1000 adesso vediamo un attimo con 1000 cosa succede perché non capisco quale x quale y e quale z sinceramente cioè non capisco non so bene vediamo con 1000 ok si vedete va in quella direzione perché ovviamente va sempre in quella direzione indipendentemente da dove gli sparo va quella in ah no ah ok però gli da anche un po' di effetto però comunque va verso di là è vinto king va verso di là perché questa è una costante ok è una costante quindi va sempre là ok viene sempre proiettato verso quella direzione e ovviamente a noi questo non va bene fortunatamente c'è l'impulso che viene cacato da qua che è proprio quello che ci serve a noi ok quindi non è vero prendiamo questo prendiamo il break hit result che sarebbe il risultato del colpo in sostanza e da qua prendiamo ok io qui non so cosa vogliono dire tutte queste cose non mi intendo di fisica né reale né nei videogames però facciamo così ok praticamente prendiamo il dato anziché inventarcelo noi e scriverlo hardcode e lo prendiamo dal progettal ok lo prendiamo dal progettal which makes sense ok quindi play è cringe perché come vi dicevo è troppo debole il proiettile pesa troppo poco rispetto a quello che succede ok quindi dobbiamo semplicemente aggiungere una moltiplicazione va bene e quindi mettiamo un nodo multiply ma questo qua lo dobbiamo convertire a float quindi invece che cagare direttamente il nodo qua lo prima facciamo passare in un multiply e poi lo mettiamo qua dentro quindi questo cavo non ci serve più grazie questo è un times un multiply e però lo convertiamo a come vi dicevo a float come cazzo si fa a convert pin float in questo modo non so bene perché ma funziona funziona ok gli diamo un float che sarebbe dire un numero con la virgola the guy grazie per i due e albone grazie per i quattro e adesso finalmente abbiamo la nostra fisica implementata decentemente vedete qui i valori non so bene perché sono quelli che sono come vedete a seconda di dove lo colpisco la fisica ha senso ok lo spinge sempre all'indietro se lo prendo un po' di striscio però però sono ancora un pochettino weird sono ancora un pochettino weird perché non hanno uno spin ok quindi aggiungiamo del torque e vada in radianti perché non lo so però vabbè aggiungiamo della torcheria e tale torcheria ci andiamo a prendere ci andiamo a prendere dalla torcheria praticamente il target stesso di nuovo poi prendiamo get forward vector questo ci prende la x ma del 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 target e non del mondo ok perché ovviamente un oggetto è orientato nel mondo ipoteticamente in modo diverso spin spin veloce spin veloce spin veloce lo convertiamo anche questo a float e questo lo mettiamo nel torque e vada ma non me l'hai convertito a float è una merda grazie questo gli mettiamo 2000 i valori li ho copiati dal tutorial chat di fisica e animazione non capisco niente io quindi proprio copio copio senza pormi il problema ok abbiamo finito chat abbiamo finito adesso lo testiamo ma volevo fare un piccolo cambiamento così che mi sembra un po' più sensato tutto storto questo lo spostiamo un po' più avanti e lo chiamiamo fisica commentate che non fate niente di male fisica dei target e questo non fa parte della logica e chi fa partire tutto ma non fa parte della logica ok logica e fisica questo ovviamente fa parte del 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 tutto quindi in realtà potremmo metterlo qua perché fa così che schifo che schifo è inguardabile con questo lag e oggi oggi internava così comunque non credo sia inguardabile da dei piccoli colpettini ma tanto sto modificando delle linee non è che oh oh dai ci sta mettilo dritto merda ok ok dai così è carino tranne per questo qua che deve essere spostato qua perfetto 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 vediamo come va target 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 must have a connection cosa ho staccato nel fare questo simpatica e allegra ho cancellato un target da qua allora tu facciamo che finisci qua va tu facciamo che te ne vai ah no 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 non ho staccato niente non gliel'avevo dato non gliel'avevo proprio dato ok guarda qua guarda qua che bellezza ok gli abbiamo dato il torquemada e adesso finalmente ok finalmente siamo in grado di provare il nostro gioco non mi sembra che stia funzionando molto il torque francamente non spinna non spinna non spinna come mai ma io l'ho copiato giusto il target è giusto ah accelerazione questo mancava mi sa ah yes baby one more time one more time boom guardate come spinnano oh dove è andato ma poi la cosa figa che si fa questo weekend cuore rosso niente stefano questo che non ci sono però grazie mille per i sette vi faccio vedere anche questo che se io piglio un targettino di qua ah devo decisamente imparare l'unica cosa che non riesco a fare è andare su e giù perché devo guardare in giù e premere indietro e questa cosa mi manda fuori di cervello quindi se io prendo questo poi con e lo ruoto un po' così volevo farvi vedere questa piccola meccanica no 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 ho sbagliato ah vi faccio notare che lo scorro ovviamente si aggiorna eh non riesco forse da qua no eeeh fatemi riprovare volevo farvi vedere semplicemente Q ed è per salire e scendere fanculo ah ok l'ho fatto se il proiettile rimbalza ovviamente li colpisce entrambi ok quindi eeeh that's very nice vogliono questo adesso Q ed è grazie mille piccolo questa è una cosa incredibile perfetto abbiamo finito il gioco se non fosse che non è proprio un granché come mappa no direi io quindi quindi procediamo con dargli una mappa più bella abbiamo un po' di tempo eeeh ma com'è finito è un tutorial per vedere come funzionano le blueprint non vi preoccupate facciamo prima due tutorial per vedere un po' di cose ovviamente non è un gioco finito e poi vediamo il resto ciao dottore ultimamente il mio ping su minecraft è troppo alto i miei vicini hanno la 3000 mbps potresti fare un tutorial su aircrack o su dark comet che voglio fare due scherzi ai miei amici Paolo e Luca che saluto ci vediamo sul server Forza Paguri Forza Paguri perfetto grazie mille per il tuo supporto e Increl grazie per i 17 un anno e un mese molto più di un anno di un mese eeeh il gioco è molto semplice ma serviva per imparare a usare un po' di cose abbiamo anche risolto da soli dei problemi qua nel GM abbiamo imparato a fare queste cose non è una risoluzione straordinaria ma vabbè abbiamo imparato a fare le funzioni abbiamo imparato un sacco di cose quindi quando ci muoveremo in un mondo vero sapremmo fare delle cose notevoli ma prima muoviamoci cioè diamo comunque a questo gioco di merda un environment un po' più decente ok? come si fa la prima cosa che dovete fare è andarvi a prendere il progetto Sun Temple ok? che io qua apro Sun Temple non è per eeeh per Unreal Engine 5 quindi facendo così lo converto a Unreal 5 ovviamente non funzioneranno delle cose con tutta probabilità ma a noi non ci interessa quindi apriamo il progetto sta caricando tutto ok questo è il progetto questo è il progetto ora andiamo a vedere un pochettino come fare poi aprirlo salvarsi il path del nuovo progetto e andare sul vecchio ok sta caricando le luci sta caricando gli shader ci mette un pochettino ci mette un pochettino non vi preoccupate sta caricando oh guardate che già guarda qua che roba guarda le roba oh intanto in ogni caso dobbiamo importare le cose del vecchio di questo qua nel nuovo allora io ho cagato tutto a caso e sono un maledetto bastardo per questo motivo perché adesso ci ho tutto spatasciato in giro fuck vabbè senti io prendo tutto prendo tutto eh ho sbagliato chat ho sbagliato vabbè facciamo che dobbiamo migrare in questo content quindi dobbiamo migrare qua facciamo migrate salviamo ovviamente e gli diciamo che vogliamo metterlo qua ho paurissima di quello che succede qua siamo ancora a caricare shader adesso in teoria dentro content ho ah no c'ho tutto noise 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 perfetto 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 allora prima di tutto mentre carica le shader prima di tutto chiudiamo il vecchio progetto non vi preoccupate lo chiudiamo momentaneamente poi eh update amo poi la prima cosa che dobbiamo fare mentre qua carica le usce tutte cose la prima cosa che dobbiamo fare adesso come vi dicevo questo qui è un progetto in eh Unreal Engine 4. qualcosa quindi quindi dobbiamo fare un po' di operazioni per renderlo eh gradevole agli occhi di eh agli occhi di eh Unreal Engine 5 e anche riuscire a importare correttamente le nostre fave all'interno ok quindi prima di tutto impostiamo il game mode impostiamo il game mode tale fa tale fatto si fa eh da window world settings world settings che è questo credo dottor world settings dove stai dove stanno i world settings window world settings world settings aspettate che non è messo bene la finestra ok window world settings me li ridai por favor ah eccoli qua world settings il game mode override dobbiamo mettere il nostro vecchio che si chiamava bpgm game mode quindi prima cosa fatta ok seconda cosa eh andiamo a caccarci dentro i nostri i nostri targets i nostri targets of course ora i nostri target sono da mettere dove vogliamo allora diciamo che la partita inizia da qua ok quindi iniziamo a cagarne uno semplice allora devo mettere oh merda questo credo si lo metto qua ok iniziamo a mettere uno qua per vedere e poi play allora già non partiamo dal punto giusto vabbè ok questo era risaputo i proiettili non partono perché c'è un bug nel first person bp quindi quando non sapete fate first person quando non sapete dove sta la roba fate first person bp nella blueprint del first person character eccolo qua la aprite praticamente dato date le problem ecco qua vedete date delle problematiche di fava non funziona questo qua ok perché abbiamo usato l'altra cosa quindi non non so non lo so fatto sta che invece che dire questo ci cagliamo semplicemente un left mouse button e poi oh shit ok abbiamo fissato questo bug quindi compiliamo di nuovo che vuoi reset VR che cazzo vuoi ma vaffanculo ok questo qui non non diceva di cancellarlo ma io lo cancello stesso non mi interessa ok compilo don't give a single fuck compilo mettiamolo qua anche se non credo ci servirà più e let's go vediamo così come va devo devo mettere lo start game hai vinto king make sense make sense make sense questo accade perché vediamo chi di voi abbastanza attento vediamo chi di voi abbastanza attento perché noi abbiamo detto che quando premiamo il rest allora evidentemente è un problema del pulsante no quindi se è un problema del pulsante è un problema nella end game Wii tipo che mi sa che avevamo messo qua non mi ricordo più dove ah qua della game over Wii questo pulsante no quindi andiamo da lui ci vediamo il graph cosa c'è scritto qua che va nel first person example map e invece dobbiamo andare in sun temple ovviamente quindi questo l'abbiamo risolto moreover moreover dobbiamo spostare il nostro allegro start of game che è questo dobbiamo spostarlo qua perché altrimenti fa perché non è dove lo vorremmo quindi torniamo un po' indietro lo facciamo passare attraverso le pareti e vediamo un po' vediamo se funziona perché nell'altra mappa non funzionava ok perfetto e come vedete abbiamo fissato tutte le cose bene adesso mettiamo degli altri target e poi vi faccio vedere ma non non vi faccio vedere niente è finito oh che tristezza vabbè mettiamo degli altri target e poi parliamo di delle cose comunque importanti allora veniamo qua prendiamo vi ricordo che potete cliccare su questo e poi fare go to browse to asset oppure ancora più intelligentemente potete fare così e duplicarlo ok allora uno ne mettiamo un pochettino tanto per testare ok quindi questo facciamo così poi e per ruotare allora qui è la parte dove sono proprio più imbecille in assoluto che non riesco a muovermi ma credo sia normale all'inizio se volete muoverlo in tutte le direzioni ma vi assicuro che non è non è semplice uno lo mettiamo qua rotate così poi prendiamo questo qua in qua questo è più un mio tutorial per imparare a usare un po' i movimenti di sto coso non è un gioco e così ah il mio povero cervello non sono proprio abituato e però sto abbastanza azzeccando dai più che altro è che essendo un luogo chiuso ecco non riesco bene a a capire a capire cosa sto facendo ok così poi credo di averne duplicato un altro qua si ah qua è la camera la camera ma non mi serve questo poi questo qua w lo trasciniamo e lo mettiamo più indietro dai mi sto mi sto abituando eh avete visto andiamo anche fino a nell'ultimo ma stanza non dovevo duplicarlo nell'ultima stanza l'ultimo lo mettiamo qua su nella cappella sistina no no voglio andare indietro ok così forse c'ho dei problemi motori al cervello non lo so così e possiamo anche scalarlo con r no non esattamente quello che volevo fare io ma era questo quello che volevo fare io e poi che ne so allora diciamo che noi arriviamo qua possiamo metterne un paio allora fatemelo riruotare dritto così così w pav e dai piccolo ok mettiamo uno là e poi uno qua no ho sbagliato ho sbagliato ok non sono sicurissimo si dai direi che posso andare bene jo grazie mille per il prime fabio grazie per gli otto ok forse voglio ancora ruotare questo qua un pochillo tra l'altro vediamo tutto la bellezza di questa mappa guardate qua che bomba che bomba c'è una libellula morta ah no è una telecamera ok posso levarle ste cazzo di luci dai coglioni dovrebbe essere tipo view l'hai fatta tu si si esatto ah no lit un lit no 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 direi che lit ci piace show oh grid switch post perspective late wireframe detain lightning si fa vedere come le luci si rimbalzano certamente la cosa che volevo vedere io non so come c'è un modo per dirgli non mi far vedere più le luci cioè fammele vedere ah g per togliere tutti i gizmo grazie era g e con g di nuovo si rivede perfetto grazie gentilissimo ah bene giochiamo adesso abbiamo un sacco di tempo ma qua c'è un piccolo problemino eh come potete vedere ma lo andiamo a risolvere dopo questi da spawn no no si andiamo a vedere dopo questo qua su ahia sono piantato ah c'era poi c'è questo qua giù ez questo qua ok e infine quello lassù bello dritto l'ho messo oh ok ci sono un po' di problemi di collisione eeeh ci sono un po' di problemi di collisione per vedere i problemi di collisione iniziamo da qua con la statua problemi di collisione ero dentro un muro problemi di collisione si mette la modalità collision e come vedete e come vedete no 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 non dovrebbe succedere questo e player collision ok ok come vedete la statua ha giusto giusto un piccolo problema di collisione e se ci muoviamo più in qua se ci muoviamo più in qua vedrete che anche qua c'è un problema di collisione ok la hitbox è completamente sputtanata ma non è un problema cari amici perché grazie ai miei potenti mezzi cioè quello che dice il tizio nel tutorial se noi andiamo sulla cupola così che qui c'è il problema di hitbox e diciamo go browse to asset che è il dome il dome lo apriamo ecco questo qua è il dome questo guardatevi bene queste schermate perché qua ci passiamo il tempo poi eh quando facciamo la quando facciamo la mappa vedrete che ci sono un sacco di problemi cioè problemi cose materiali comunque nella sezione nella sezione nella sezione collision collision bisogna dirgli simple collision cazzi no collision complexity che non c'è più è questo collision eh dobbiamo dire use complex collision as simple salviamo torniamo di qua rivediamo come stiamo messi dal punto di vista di collisione e come vedete adesso non c'è più quel cubaccio la brutto se facciamo la stessa cosa con una statua quindi tasto destro browse to asset statua e veniamo qua e gli diciamo senti bomber lo fai sembrare semplice esatto usa complesso come semplice torniamo di qua e come vedete come vedete adesso la statua non ha più quella merda lì ma per ovviamente avere un test definito bisogna lightning needs to be rebuilt ma no per coglioni per avere il test definito vedete che adesso posso sparare sulla statua ok non è perfettissimo però è meglio di prima decisamente meglio di prima perché queste cose non le fanno già di base semplicemente perché questa non era una mappa per spara tutti e quindi non ce n'era bisogno semplicemente ok questa chat è la questione questa è la questione abbiamo visto come creare della meccanica di gioco abbiamo visto come fare la fisica abbiamo visto anche anche queste pareti vedete che c'era una collisione strana no cioè se io vengo qua e gli dico senti fammi vedere le collisioni vedete che sono fatti di merda ora non so se anche qua si può fare la stessa cosa credo di sì in realtà tree moon tree moon non so se anche qua si può dire la stessa cosa e lo fixa però vediamo sì però comunque ovviamente la dimensione della palla non è precisa cioè capite che per fare un gioco vero serio che si occupa di collisioni è un'altra problematica poi c'è sto motion blur di merda poi ovviamente una volta che uno c'ha questo può fare quello che gli pare ovvia ovvia può venire qua a fare questo sollevare la statua farne due potete fare quello che volete e nel prossimo episodio bella mi viene a tenere alt invece non devo fare alt ecco questo è una shortcut veramente che amo boom e lo incolla al piano più vicino erwan xxik grazie mille per i sei mesi piccolo punto scatio prime intanto mattia mi chiede hank ma tu quanto tempo hai imparato a fare videogiochi ieri pomeriggio circa ieri pomeriggio si i'm fast learner i'm fast learner vabbè la mappa ovviamente è già fatta non è che l'ho fatta di blu nel prossimo episodio andremo a creare un landscape un landscape in particolare vedremo delle cose molto interessanti ma già che siamo qua a pastrocchiare nel gioco da quali fonti hai imparato unreal sensei unreal sensei dato che abbiamo ancora un po' di tempo direi dato che io mi sto divertendo moltissimo volevo farvi vedere ancora un po' di cosettine che poi tratteremo meglio di là però si parla del foliage del foliage foliage allora il foliage serve per fare le foglie ok ora speriamo di avere del foliage nel content drawer allora oh ecco qua perfetto abbiamo un albero poi ve lo spiego bene come si fa però la cosa è veramente divertente perché tu vieni qua sei troppo bello quindi anche questo mese avrai il mio premio grazie allora sì e foglie praticamente noi selezioniamo del foliage poi pentiamo questo dovrebbe essere shift per ridurre il penello ctrl shift no decisamente no come si riduce il penello per favore è possibile ridurre il penello oh la merda cosa ho fatto sì ma c'è la shortcut mia la puttana shit eeeh shit eeeh ho sbagliato ah è comunque ctrl z eeeh praticamente ok forse farvelo vedere qua dentro però diciamo il brush size lo possiamo fare molto più piccolo qua però gli alberi sono comunque grossi lo stesso no quindi bisogna andare nel singolo albero e digli senti brusk brusk brosk il sise il sise no allora fermi tutti dove è finito piccolo piccolo ho perso il mio albero oh merda oh merda vabbè lo rimetto oh dai dove cazzo sei questo è un baco eh un baco hai alzato la tendina what non ho fatto niente io ridammi il mio foliage perca la puttana ridammi il mio foliage foliage actor foliage nooo no 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 scusate questo è per creare a rielenking select paint ah qua forse devo mettere figlio di puttana dai non c'è più la cosettina ah ma vaffanculo ok questo è la l'albero scusate sono veramente rincoglionito però capite che minchia ci sono 50 finestre allora praticamente dentro il qua non si può cercare no advanced dentro qua c'è sise le sise no forse height è diventato l'hanno cambiato si chiamava sise prima comunque possiamo ridurre praticamente questo è veramente una figata perché credo vadano in unreal engine units che sarebbero un centimetro direi che non è decisamente questo il parametro però la questione la cosa figa è che ah scaling era certo ecco non i migliori alberi che ci siano però no ho esagerato beh non sono non sono proprio pratico si vede che non sono pratico di ste cose ah no 20 ovviamente è gigantesco aspettate sono stupido allora togliamo l'alberone togliamo l'alberelli torniamo indietro proprio dai ok allora scale x è 1 diciamoli 0.4 oh 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 la cosa fighissima chat è che innanzitutto leviamoci da sto cazzo di posto con lentezza ma leviamoci oh oh mettiamoci qua sul tetto a fare sto lavoro la questione interessante praticamente che volevo farvi vedere è che per per droppare il foliage ok non dovete fare delle robe mistiche complicatissime no però qua non vedo il penello non vedo il penello possiamo andare in qua se andiamo su questo lotto di terra mamma mia che texture di qualità che ci ha messo vabbè se io vengo qua col penello e pento non funziona qui andiamo un attimo qua facciamo un piccolo teletrasporto secondo me non funziona anche qua perché mi fai questo piccolo cosa c'è che non va l'ho selezionato ah il brush size è cagoso però la densità orca la mano allora chat dovete capire che per un po' sarò così imbecille ah qua c'è un po' di home dai va bene perché non non caca perché non è un landscape ma una static mesh chiara abba sei veramente molto intelligente qua ah ok infatti qua funzionano vabbè posso avere un un posto dove cagare due alberi semplici o no no perché questa è una mesh senti allora sai che cazzo ti dico che io vengo qua e faccio un landscape nuovo così impari bastardo questo lo metto qua me lo caco qua è un po' grosso facciamo più piccolo 100% 64x64 ah proprio qua lo devi mettere ma c'ho già il mio altro coso ah posso spostarlo ok ok chat create grazie zek per i 13 eh ma adesso la luce la rimuoviamo ok abbiamo finalmente fatto il nostro landscape dove possiamo fare un po' di cosettine quindi qua gli alberi dovre non volevo fare questo quindi qua gli alberi in teoria funzionano perché ovviamente potete scolpire smutare fletenare potete fare quello che vi pare vedete ma questo poi lo vediamo la prossima volta tra l'altro qua le luci fanno cagare perché non sta usando lumen ma al di questo smutiamolo un secondo grazie miam 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 volevo solo farvi vedere una cosa divertente in merito al foliege foliege ossia che per l'appunto oh la cosa fica è che se voi decidete densità e brush size gli alberi vengono generati in un range che voi gli dite tipo se questo io lo metto da 0 2 a 0 4 vedrete che gli alberi diventano oh ma che cazzo vuoi perché non dipingi perché non parli allora ti ho selezionato no ah sono in questo angolo perché vabbè non so perché non dipinge qua forse perché è troppo ah perché è troppo cazzariato minchia che rompe i coglioni sti alberi troppo troppo cazzariato vabbè noi facciamo flatten e vaffanculo e adesso cosa dite alberi non potete discutere comunque la cosa che volevo farvi vedere è che vedete che gli alberi vengono generati in automatico di varie altezze lo vedete se gli cambio la adesso lo sto facendo completamente a caso poi lo facciamo che ve lo spiego bene però se voi gli date qui la la parametricità questo proprio per per memare per memare ve lo faccio vedere no ma mi odia mi odia questo cazzo di cosa perché non dipingi però li devi e poi non mi dipingi più questo è strano eh questo è molto strano devo dire perché forse devo dirgli qualcosa di non rompermi i coglioni perché questi li ho tirati su erase ah sono nel foliage allora andiamo nel landscape flatten select copy erosion boh provo a flattenarlo per bene ma secondo me non funzionerà oh sto esplorando chat non sto facendo niente di specifico che io sappia paint e non mi e non mi penta e non mi penta senti bastardo landscape new figlio di puttana guardate se mi deve far vieni qua cacacazzi cacacazzi oh ok è così che si imparano le cose comunque c'è poco da fare oh foliage ma il tutorial lo metti su youtube si ma non è un tutorial ieri è la prima volta che l'ho usato adesso qua dipingi vero grazie ecco vedete gli alberelli come vi sto facendo cercando di far vedere gli alberelli sono di tutte le dimensioni in mezzo popopopopo è super figo perché così non dovete mettere le alberi uno a uno se volete poi potete modificarli tipo tu albero specifico voglio che tu sia enorme potete farlo non si fa così però perché l'ho scalato soltanto da una direzione così tu in particolare sei un giga albero ok potete farlo non è un problema un uba o bab ok e la cosa super figa che potete fare è questa se voi avete più di un albero tipo questa merda qua che è un un folliaggio li potete selezionare entrambi e quando dipingete li mette entrambi cos'è sta co madonna mia che fa 60 oh la merda oh la merda ok ho esagerato perché c'era forse troppa densità ah sarà divertente l'episodio del dove facciamo il landscape già mi prevedo una bella quantità di bestemmie vabbè comunque al di là di questo che appunto potete fare cose ma la densità perché devo diminuire la densità del singolo di lui perché praticamente il singolo foliaggio oh grazie visto il singolo foliaggio il singolo foliaggio hanno ognuno ha le sue densità ok però esistono delle risorse che io qua non ho perché questo progetto non era pensato per fare quello ci sono delle singole risorse tipo se cerco tree ah ce n'è un po' no c'è solo questo in realtà ehm foliaggio no ah aspetta foliaggio si chiamano foliaggio assets o forse sono questi però fatto sta che sostanzialmente quelli ci hanno già le densità regolate per il penello ok il che è ottimo e la cosa bella è che potete fare appunto un sacco di cose potete generare di tutto e una delle cose più complicate in realtà ha a che fare con i materials se io vengo qua e cerco landscape 2 che è questo e lo apro qua sotto in teoria sto andando tutto a memoria in teoria eccolo qua c'è il material ok quindi se io cerco un material qualunque tipo così e voglio che sia soltanto materials texture forse non so se è texture giusto no material come lo sto dicendo ah material posso praticamente impostare i materiali delle cose e così facendo ci divertiamo un mondo perché tipo posso rendere il mio landscape dell'acqua se mi va se se ne va soprattutto la finestra cacacazzi no una pistola posso rendere il il mio landscape una pistola base material ok poi qua c'è sempre qualcosa che bisogna fare che non mi ricordo ecco e le blueprint ritornano chat ritornano grandemente perché con il meccanismo delle blueprint si possono fare anche i materials all'interno dei quali bisogna dare una serie di parametri che sono tutti questi o parte di questi e così facendo ti puoi creare i materiali tuoi anche se non esistevano prima io qua l'ho applicato al al terreno al terreno che per qualche motivo non si applica al aba hai qualche idea del perché come su blender eh sì penso sia la stessa cosa ah bello questo gli ho messo il material ah perché è vt secondo me e quindi c'ha problemi tipo se provo a metterci il water is missing require material parameters ok baby non mi interessa stone brick wall oh e non mi rompe i coglioni però non posso mettere niente allora vabbè no bisogna fare con calma bisogna fare con calma questo è landscape ah questo è world settings ma sono un coglione le bow questo è world settings io voglio andare su qua e voglio qua dirgli broski broski stone brick wall anyone eccolo eccolo ecco e se mettete dei materiali complessi o interessanti vedete questa è diventata acqua adesso ma posso posso fare che minchia mi pare i materiali vengono usati per fare tutto quindi è veramente questi sono degli scudini non so bene cosa siano è uno scudo gigante possiamo mettere il fuoco addirittura come materiale ovviamente non avrà credo l'effetto del fuoco ma ecco infatti non mi sembra che funzioni particolarmente perché credo che sia un materiale soltanto per per i riflessi o qualche porcata del genere possiamo oh questo sembrerebbe essere un materiale da materiale ok come vedete abbiamo messo un bel materiale rocciomene poi naturalmente questo qua però uno può dire eh ma non mi piace come è fatto perché non mi piace come è fatto perché vedete che ha un pattern strano è troppo ripetuto sì è vero e allora tu vieni qua e gli cambi tutti i parametri che vuoi ce n'è un milione ok e potete cambiarli quanto si ripetono come si ripetono è un bordello è un bordello malato tant'è che non lo so fare e infatti non si usano i materiali direttamente ma si usano i cosiddetti master materials ma questo ve lo spiegherò la prossima volta ok l'ultima cosa che volevo farvi vedere che è anche una delle più interessanti però ve la faccio vedere dopo la pubblicità grazie Alberto per i tre mesi punto schiamativo prime per supportare veramente un contenuto oh bello cazzo arrivo chi n'ha allora volevo fare volevo farvi vedere una cosa molto molto interessante qui c'è una cosa che si chiama Quixel Bridge Quixel Bridge che contiene una cosa che si chiamano Megascans allora le Megascans che cosa sono sono degli assets ok e ce n'è un milione ce n'è 16.000 ok tipo avete voglia di pane volete del pane vogliamo mettere una bella pagnotta nel guardate di che qualità sono fatti assurdo la girella dai prendiamo sto pane lo scarichiamo in alta qualità poi facciamo download qua in basso non lo vedete grazie gotsus devi raffresciare kati sono 3d scan significa che sono scannerizzazioni del mondo reale adesso qua scarico un attimo quindi potrei laggare ma tanto ho già laggato 50 in realtà adesso è nota meglio grazie per questi contenuti il venerdì sera così non devo andare ad ubriacarmi in discoteca no ma tra poco stacco però quindi vai pure a ubriacar se vuoi downloaded facile no no non costa niente è tutto gratis poi aggiungo e bom finito chat c'ho già il pane c'ho già il pane qua c'ho il pane qua fatto fatto ora vediamo se è veramente bello per favore posso avere del pane un po' piccolo pelo piccolo fatemi scalare quindi r gigapane grazie eccolo qua eccolo qua il piccolo mio allora le luci in questa mappa fanno veramente cagare c'è una luce di dio aspettate ctrl l i'm the king of the sun ctrl l i'm the fucking king mamma mia no vabbè sta mappa c'ha delle luci veramente inguardabili e fu così che venne creato il panettiere simulator si sente tutto si sente tutto si sente tutto ehm a me al contrario l'ho messo al contrario è al contrario chat ho messo la pagnotta al contrario vediamo era al contrario chat allora a parte la luce che ripeto fa schifo qua forse sapete cosa entriamo in casa che in casa la luce era ok perché ovviamente non è fatta l'illuminazione per l'esterno è fatta tutta dentro e non utilizza lumen che è oh ma sta telecamera sta andando troppo veloce che è fondamentale quindi pano poi levati dal cazzo pano scaliamolo ah vedi questa volta me l'ha cacato dritto beh pure qua la luce mi sembra che faccia abbastanza cacare comunque ecco il pano guarda che roba agnottona gigante ora voglio testare una cosa pazzesca bear with me in teoria il gioco è ancora vivo eh ci sono degli alberi in mezzo adesso ma in teoria ah no no non lo so perché la luce fa schifo perché perché vi spiego queste luci sono fatte di merda o meglio sono fatte in un real engine 4 ok questa è una cosa seria guardate cosa succede se io sposto questo pilastro lo vedete che la luce si sputtana completamente perché le luci sono fatte così sono messe apposta per come sono messi gli oggetti quindi noi potremmo in linea ipotetica in credo world settings luce o forse in post process oh madonna quanto ce n'è global in global post process volume details dirgli broschio voglio la luce fatta con qua è veramente complicato eh e voi non vedete niente lo so c'è la telecamera ma io gli voglio dire che per la luce che deve essere usata è lumen e non quella che c'è adesso che sarà global light illumination credo di default ma il discorso delle luci è veramente un mondo minchia a parte ok global shadow smittons highlights michelaneo global illumination method lum ahia la puttana ok no non è così semplice bisogna dirgli supportami il cazzo vabbè lasciamo stare ve lo faccio vedere poi con calma però il motivo per cui è illuminato così di merda è nato è che tu gli devi le luci qua sono tutte manuali infatti vedete che è pieno queste qua sono delle reflect sphere le reflection capture e quindi ognuna deve avere una luce sua praticamente quindi tu dovresti fare qua più luce point light e così inizi a lavorare sull'illuminazione della pagnotta singola la puoi spostare gli puoi dire le cose ma minchia è un mondo veramente de merda probabilmente già qua posso dirgli delle cose ad esempio se io nel material già gli dico broschio riducimi l'albido riducimi l'albido in teoria è già meno vedete che è già meno però è un u burdiel è un u burdiel vi dico andare a modificare qua l'albido non vi suggerisco di toccare l'albido vedete che è già meglio però veramente è un mondo veramente molto complicato quella dell'illuminazione fatto sta che abbiamo la nostra pagnotta in una spotlight straordinaria e voglio fare una cosa noi stiamo giocando giusto e avrete notato che noi spariamo delle palle what if sparassimo delle pagnotte grazie per i 9 mesi ora il problema qual è? che come non ho una minima idea di come si faccia questa cosa io credo che dipenda da qua ok proviamo a indagare proviamo a indagare ok get word location ora da qualche parte dovrebbe esserci la mesh del proiettile vedete qui spawn actor first person progettile quindi in teoria questo first person progettile è da qualche parte qua first person non di material eccolo eccolo la mesh e il progettile credo sia questo oh shit ok però questo qui dentro c'è una mesh no? qua sto andando proprio a casaccia non lo so fare sta cosa eccolo eccolo qua allora vediamo se vediamo se ad esempio cambiandogli il material già solo questo il base material è una merda se io gli cambio già il diffuse color così per dire no? non ho salvato oh merda salva vediamo se funziona se funziona secondo me ci siamo abbastanza non ho visto ok 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 le palle sono rosa perfetto ora io gli devo dire broschio senti tu non sei più fatto così dr mesh questo qua ok questa è la mesh la mesh è fatta come pane praticamente devo dirgli in realtà vorrei semplicemente dirgli che dato che questa è una mesh e il pane è una mesh è una static mesh ci deve essere un punto in cui io gli dico al gioco di che deve sparare eh ma chissà dov'è questo non so proprio dove sia credo di dover addirittura cambiare quale classi troppo complicato cambiamo la mesh cambiamo la mesh se faccio tipo così cosa succede? ottima risposta credo nel blueprint eh lo so ma io voglio cambiare la forma di questo grazie skunk per i 7 grazie shirling per i 9 e a lava non c'è più e questo è il problema perché vedete questa qua è una mesh però il problema è che per dirgli che adesso dovrei aggiungergli la stessa fisica al pane prima di tutto e poi ah no qua è questo è qui se io questo qua lo sbrodo lo sgrodolo vediamo se io questo lo faccio così in teoria adesso no che delusione ero convinto che avrebbe funzionato ok eppure ho cambiato il first project tiles scusami c'ha la sfera dentro static ah forse perché no eh ma l'ho deformata è giusto funziona ah è vero solo che l'ho allungato nella direzione sbagliata quindi non si vede se io adesso faccio così mi sa che ancora vediamo un attimo yes ok la fisica è tutta giusta ok 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 ci siamo eh adesso anziché avere il project tiles fatto così si può tipo hide hide delete non voglio proprio cancellarlo però il punto è che sphere se alla sfera come static mesh invece di mettergli questa gli metto bread ok no 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 più grosso grazie ma non così spatasciato perché questo qua è un collision box credo quindi la collisione è comunque quella rossa devo soltanto riuscire a scherzo allora aspettate innanzitutto sta telecamera del cazzo ok allora adesso lo impostiamo ok perché perché è già spatasciato ah perché era spatasciato qua certo ok ok ce l'ho ce l'ho l'ho spatasciato prima eccolo eccolo in tutta la sua bellezza ok adesso questo è il collision quindi abbiamo il problema è che è un pane non tondo ok però allora adesso scaliamo così no senti non mi fare incazzare questo qua voglio io vabbè lo locchiamo e lo scaliamo qui se l'ho loccato ma che cazzo vuoi vabbè comunque non otterremo tanto di meglio vorrei soltanto ruotarlo ancora un pochetto perché secondo me è più bello vederlo così oh guarda che il collision è abbastanza lui è inscritto è inscritto è inscritto chat e adesso play è tutta storta perché l'angolatura non era quella giusta perché non ho gismo coordina sistema between world and local ok vedete praticamente queste qua sono tutte cose abbastanza sofisticate che non so perché so praticamente se io metto le coordinate locali posso ruotarlo rispetto al mondo e non rispetto a se stesso ok quindi adesso così dovrebbe funzionare stessa cosa di prima eppure è che no non lo so allora hai messo così quindi lo dovrei mettere tipo così sto pane del merda potevo prendere un pane tondo no cazzo adesso possiamo cercare una cosa tonda se volete che è un po' più facile play super super ridere chat pani sono un po' piccoli per i miei gusti ma comunque ok prendiamo prendiamo qualcosa di più bello dal dal mondo prendiamo di qualcosa di più bello del pane pane del cielo sei tu Gesù vita d'amore ah e vedi potevo pigliare un cazzo di questi invece che sto coso qua circolare oppure eh sì vabbè a parte il pani cos'altro c'è una pianta potremmo tirare un vaso un frutto ragurie mele quale frutto volete chat il mango il mango secondo me non è male ma questo non è un mango è una patata pere banane avocati secondo me avocati sono belli ma non rendono banana ovviamente ma cerchiamo una cosa circolare chat io sparerei dei manghi i limoni ma non si vedono un colore un po' più allora l'avocado lo scarico anche se non è proprio water melon e melon dai il melone il melone chat qua potrebbe andare un po' giù la connessione perché sto scaricando eh è pazzesco sto posto comunque guardate quanta roba c'è fighissima ah cucumber ho già idea di un gioco di simulazione di un certo tipo pane del cielo sei tu Gesù ok scusate mi sono perso un attimo abbiamo messo l'avvocato lo aggiungiamo e il melone quindi in teoria se abbiamo imparato qualcosa innanzitutto vediamo com'è mamma mia se sono piccoli sti cazzo di cosi r eh non è male bell'avvocatone invece è avvocato e questo invece è il melone bello il melone dai al miglio micchia come è fatto bene oh chat ricordatevi l'illuminazione fa schifo qua eh guardate che bello che è holy shit decisamente meloni decisamente meloni decisamente meloni non clippatelo su che cosa voterai alle elezioni che non voterò decisamente meloni quindi semplicemente basta venire qua e dirgli melone sembra una merda melone oh dove cazzo siamo finiti guarda guarda perfetto è già nel litbox aveva lo stesso diametro incredibile e voilà fatto ha una fisica un po' strana per essere un melone però c'è il suo e poi non ruota neanche guardate che fisica la fisica è sempre uguale zero variazione guarda ovviamente è un progetto iniziale chat puoi cambiare il rumore dello sparo sì ma non so se ci sono su mega scans poi su mega scans ci succede tutto guarda guarda vi faccio ancora vedere un po' di mega scans dove Omi è in live ok vai in live fra poco guardate c'è veramente di tutto guarda qua abbattitore guarda che roba guarda che belli che sono sono incredibili addirittura questi sono in nanite guardate che belli che sono non mi viene voglia di scaricare tutto splat splat sì 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 scarichiamo tutto questo è quello di rust mettiamoci pure uno scaffale il gioco è finito chat era un tutorial per vedere un po' di cose quindi adesso ci stiamo sbizzarrendo urban trash nooo possiamo fare una città italiana simulator datevi tutte le bag che avete oh merda ho perso ah no abbattitore allora voglio questo voglio questo voglio questi non li ho scaricati sì ho scaricato gli altri una bloodstain la voglio e poi avevamo messo la urban trash mi rompe i coglioni che devo fare scarica e non posso aggiungerla direttamente cazzo la sto scaricando aggiungi grazie il cestino non l'abbiamo ah due due tipi di bags vabbè mettiamo anche il cestino dai puoi fare un gioco possiamo fare tutto chat possiamo fare tutto questi sono material credo forse no non lo so ok abbiamo scaricato un bel po' di puttanate oh ma me le aggiungi export me le ha messi o me le ha messi minchia ne ho messi 50 scommetto ah no allora iniziamo diciamo che qua abbiamo il nostro immondiziaio la telecamera la telecamera dio allora mettiamo qua un bidone ma questo è solo il lid dov'è il trashcan oh merda oh piccolino ma che fallito così poi ci potete mettere il lid dove volete oh merda l'ho messi due vero devo solo impratichirmi un po' con a questo quanto abbiamo scalato 1,75 quindi questo qua facciamo la stessa cosa poi se togliete lo snap gli snappi siete liberi di muovere le cose più dove volete tipo adesso qua ho bisogno di togliere lo snap vedete è fluido invece che andare a gradi sembra un cestino francese così oh sto imparecchiando pane del cielo sei tu gesù ci sta vita è un cestino francese ci sta no realism realism poi naturalmente vi ricordo un melone da metterci perché c'è una pagina facebook un po' per boomer però ha un titolo che fa veramente ridere si chiama qualcuno ha cagato nel frigo ah no è il melone perché il melone mi piace ha un odore terribile terribile il melone è proprio il peggiore che ci sia e quindi un po' un po' ci sta un po' ci sta poi un trick che vi do ma poi ne parleremo la prossima volta quando voi scalate se scalate al contrario così praticamente riuscite a duplicare l'oggetto senza avere due cose diverse e così dà un po' di varietà se prendo ah vedete posso muoverlo dove voglio direttamente dai ci sta un botto l'immondiziaio così ma i meloni sono buonissimi sì ma in frigo tanfano che la metà basta i melonacci questo è un po' strano clip decisamente no poi mettiamo una luce ecco mi è comparso di nuovo il bug di delle finestre adesso no vabbè tanto è finita la live tra poco ecco qua ecco qua la nostra immagine straordinaria poi cos'altro avevamo scaricato ah un metal shelf poi qua fate function end e lo mette al pavimento cioè è veramente fico cazzo senza senza limiti proprio così potete mettere delle crate un po' più grosse devo dire che dopo un po' i primi movimenti sono ancora un po' rincoglionito però le shortcut sono e poi con spazio potete farli andare avanti indietro sta volando questo no cazzo ma guardate com'è realistico e vi ricordo che qua l'illuminazione fa schifo non mi ha dato non mi ha dato il sangue il bastardo ah perché è una decalcomania ok sugli oggetti gli succedono delle cose terribili però non so che cosa siano le decalc non le ho mai viste quindi non so come si usano però cazzo guarda che realismo guarda ripeto l'illuminazione è tra guarda c'ha la texture vedete c'ha la texture in rilievo del sangue secco eh e poi la cosa straordinaria è che tu vieni qua e ci giochi se questo qua si levasse dal cazzo vieni qua e ci giochi ah che bello questo gioco oh c'è un avvocato non hanno le collision questi con i miei meloni proiettoni oh merda oh merda guarda qua guarda qua anche questi mi sa che non hanno la collision piccolo melone fighissimo poi non vi piace che tempo fa no problema venite qua no venite qua e lo cambiate se capissi come funziona questa shortcut ctrl l ah ok no ctrl l ctrl l tengo premuto oh no 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 grazie vabbè eeeh fico 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 piccolo f c'è vax power no ma aspettami aspettami comunque è fighissimo vedete è veramente semplice eeeh il tuo gioco a requisiti troppo alti fa laggare tutto ma va va bene chat questo era il primo episodio eeeh ah si si non mi interessa niente questo era il primo episodio c'è